eccoci tornati cari amici di pomeriggio con noi allora che facciamo adesso siamo contenti adesso ridiamo adesso ridiamo va bene perché in studio abbiamo dado eccoci qua ciao dato grazie di essere qui con noi e buon dì buon dì buon dì a tutti perché dado è a teatro lo sarà fino al 29 di gennaio a roma però non c'è ora capirete anche perché dico questo fino al 29 gennaio appunto con uno spettacolo che si chiama dado a tutto tondo e già il titolo fa ridere dato beh sì perché è uno simolo geometrico no la parola dado che ha degli spigoli e immaginarlo a tutto tondo ti costringe a fare una sorta di forzatura delle dei perimetri che in realtà è un po questo cioè io ho cercato di riportare in scena uno spettacolo a tutto tondo un po come quando compri una macchina che la vuoi tutta accessoriata no tu basta che paghi il biglietto e poi tu ti presenti al tuo pubblico a tutto tondo in tutte le tue sfaccettature io cerco di dargli uno spettacolo a tutto tondo fatto che tu inizi se tu devi soltanto comprare il biglietto ti siedi e poi facciamo tutto noi perché non sono da solo c'è una bella struttura una piccola produzione una scenografia molto impegnativa è una scenografia molto simbolica perché c'è un telefono di tre metri un cellulare che rappresenta forse l'ingombranza che ha oggi un cellulare che tu ce l'hai in tasca pensi vabbè ce l'ho sempre con me pesa poco e in realtà il telefono è gigante perché dentro c'è un algoritmo che ti conosce talmente bene da rappresentare un'invadenza appunto quasi pantagruelica questi tre metri d'altezza se poi c'è anche un caricatore enorme abbiamo visto insomma tutto questo che rappresenta il telefono emanuele c'è un'immagine dove c'è un manichino che un po sta nel pubblico un po sta eccolo qui sul palco vicino al telefono è un manichino che in testa una telecamera una telecamera che riprende a 360 gradi sì è cercare sempre di fare mi piace delle cose per primi non so pensa a meucci quando fece la prima telefonata si chiamò da solo ho messo un'altra persona dall'altra parte probabilmente quando si ha chiamato ha sentito dei rumori non ha sentito bene perché era la prima telefonata e quindi in base a questo principio fare un esperimento per la prima volta ti giustifica anche da potenziali errori quindi per questo vedi noi abbiamo messo un manichino in in sala con la telecamera 360 tu da a casa ti puoi collegare e vivere la realtà immersiva cioè con il visore entri ti giri intorno puoi guardare anche il vicino la persona che è accanto da borsa puoi curiosare su quello che ti sta vicino e vedere un pezzo di spettacolo il link è gratuito quindi l'abbiamo messo soltanto per i primi due tre minuti cioè dove spieghiamo questa cosa e poi invitiamo anche accattivante come cosa perché comunque la persona che vede quei due tre minuti dice ah caspiterina vuoi andare a teatro se avessi avuto la possibilità di andare quindi invitiamo tutti quanti quelli che si collegano a venire poi stacchiamo la presa di corrente del manichino quindi diciamo che il manichino ha una parte e rimane lì nel mezzo in scena insomma fa parte delle per dire che siamo i primi al mondo a fare una cosa del genere ecco allora poi il manichino è nudo perché anche chi sta a casa è nudo cioè di solito chi sta a casa sta in desabiliere mentre invece per venire a teatro ti devi preparare vestire darti una lavata ecco quindi noi invitiamo tutti a non a vestirsi e a venire a teatro allora dopo Roma lo spettacolo se ne scena le principali città italiane e abbiamo portato abbiamo un piccolo calendario abbastanza ricco durante il periodo di febbraio a febbraio mese prossimo iniziamo a girare siamo tre giorni in puglia uno a legnano su nord poi non mi ricordo quali sono tutte le sono tantissime sono tantissime dato però ti voglio chiedere questo anche noi ci siamo sentiti tempo fatto lo diciamo il fuorio nel radio per ricordare i video che facevi durante il lockdown e anche perché poi nell'estate del 2021 dimmi se sbaglio ci dò una tua canzone anche stiva sì la canzone quante cose fai beh perché durante il lockdown per passare il tempo per ricordarmi che lavoro faccio perché alla fine insomma è un po una sorta di condizione la mia io so fare solo questo e quindi mi trovo bene come è stato vissuto da te dal mondo dello spettacolo con questo stop a livello mondiale soprattutto dal punto di vista del lavoro ma del lavoro in realtà io non ho non ho non ho vissuto una grande differenza perché in realtà io sto sempre a casa tappato a scrivere mi metto sempre quindi stare a casa è stata una sorta di di raduno forzato con i miei autori a distanza e con cui continuavo a scrivere continuavo ho scritto una sceneggiatura di un film ho scritto appunto una canzone insomma esprimersi è quello che fa un attore un attore un autore e poi se tu mi metti nel lockdown mi metti in un carcere mi metti su un'isola o mi metti sul cocozzolo della montagna io comunque trovo quando metterei il modo per esprimermi quindi dal tuo punto di vista è stato anche prolifico sì sì anzi ero c'avevo un motivo per farlo non avevo più scuse non dovevo spostarmi andare a fare interviste in giro e quindi oggi non posso scrivere no dovrò scrivere per forza senti vediamo questa scena no è il segno distintivo ovviamente da almeno per noi della nostra generazione insomma no di fine anni 90 inizio inizio il nuovo millennio la camicia e la manica arrotolata mentre la manica va su una canzone che canti c'è una la prima che faccio dice proprio gianna 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 non credeva alla pandemia gianna aveva un fiuto eccezionale poi andato via è certo perché oggi è quello che abbiamo vissuto tutti è vero è così senti mi racconti però come è nato lo sketch della camicia allora io stavo in un locale gestito da teo mammuccari negli anni 90 e teo diceva dai dato adesso tocca a te mettiti qua dietro era piccolino locale quindi stavo di adolescente faceva anche caldo era inverno no forse no però mi diceva stai qui adesso ti presento e poi teo presentava cioè non mi presentava mai parlava col pubblico parlava poi intanto si affacciava a un minuto e preparati e poi andava sul palco davanti al pubblico e continuava e io stavo lì anche ore ad aspettare la mia presentazione e quindi non sapendo cosa fare mi arrotolavo e mi srotolavo la giacca insomma passava un po' il tempo poi quando era il momento di entrare in scena io quasi per automatismo continuavo a fare quello che avevo fatto in camerino si è nata proprio come una forzatura cioè infatti poi la come dire la dimestichezza con la quale lo faccio era perché lo facevo veramente tutti i giorni e quindi poi è diventato un segno distintivo allora abbiamo un pezzettino dello spettacolo sono giusto due minuti il manichino ne dava tre noi ne diamo due e vediamo un attimino anche questo smartphone gigantesco a cui hai dato un nome dato nello spettacolo? è lo smartphone è lo smartphone di tutti è l'algoritmo rappresenta l'algoritmo che ti conosce a tutto tondo sa i tuoi percorsi abituali sa i tuoi gusti culinari sa cosa ordini al deliveron cosa vuoi comprare cosa compri cosa compri al deliveron cosa compri magari il riso la carne il pesce e poi ti arriva la paella perché si mischia tutto insieme quando con i san i san pietrini è vero perché a roma questa è bella la paella coi san pietrini no perché quando tu ordini con la bici i san pietrini ti fanno ballare se mi scusate di roma nord insomma di roma e non di roma centro e sa qualcosa di lui questa è una grande verità quindi potrebbe partire lo spettacolo così dato a tutto tondo si vuol dire chiaramente uno spettacolo rivoluzionario per proseguire nella visione dello spettacolo è necessario accettare tutti i punti pronunciare ad alta voce la parola accetto non ho capito siete pregati di alzare il volume della voce e ripetere fortissimo la parola accetto grazie grazie di aver accettato la visione dello spettacolo sappiate che avendo accettato l'avete accettato adesso noi siamo pregati per sempre io so tutto per voi avete accettato ormai i vostri dati sono quelli che per di nuovo la ragazza è finita adesso io so tutto eh poi qualunque cosa pensavate tac e poi è finito si rischietta io devo solo venire a trovare mezz'amore bene adesso dimostra di non essere un urbo no non ci ha accettato c'è bisogno di dimostrare che devo dimostrare basta accettare no sì infatti sei tu che devi dimostrare di non essere un urbo che fa l'immagine che compiene i vigili urbani noi siamo autori dello spettacolo che c'entra ma non io scusate eh facciamo allora eh selezioniamo tre immagini mantenente i vigili urbani vince allora stanno al bar al bar e la Starbucks basta 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 adesso inserisci nome del tuo primo animale domestico ah no ma eh si chiamava Nerina il mio primo animale confermi di aver detto Nerina si confermo aver detto Nerina io sto facendo adesso inserisci il cognome di tua madre Danubina si chiamava Nerina pure mia madre Danubina confermi che tua madre Danubina si chiamava come il primo animale domestico si l'ho segnata Nerina per essere così per i video accetti eh io sono da fare un spettacolo amore bello amore bello è una riproduzione amore ma no canzone un'altra canzone punti di questo periodo storico per far vedere che un attore in realtà a differenza per uguagliare la storia di chi scrive libri, di chi sta attento al periodo storico parla di questo momento per riconoscersi. Ci sono degli autori di libri che quando scrivono per non essere legati al periodo cercano di essere molto larghi, di parlare di filosofia. Io invece, che ne scrivo uno all'anno, mi leggo proprio al momento storico per essere più contestualizzato possibile. Ed è giusto anche perché poi il pubblico riesce a immedesimarsi nel migliore dei modi in quella che è il tuo operato. Sì, beh, a parte vivere dentro una società dove la somma delle arti figurative ce l'abbiamo tutti quanti dentro un telefono, attraverso il telefono. Musica, film, qualsiasi cosa. E questa iper accessibilità a tutto rende comunque una relazione un po' schizofrenica, insomma, cioè con chi la fa da padrone. Noi dovremmo essere quelli che lo gestiscono, in realtà è lui a gestire. Allora, protagonista anche del nuovo programma di Rai 2, Italian Green, che è in onda dal 24 dicembre, anche quella è un'altra cosa interessante. Ogni sabato mattina 12 puntate. Temi importanti, ecologia e ambiente, un dato nuovo. Sì, anche questa è una bellissima esperienza perché il produttore ha voluto fare questo programma dove rilancia tutte le società che hanno investito sul fotovoltaico e sull'energia pulita, il green. E io gli ho proposto, diceva, visto che ti manca, fai un personaggio, cioè utilizzami con questo format. È un nonno antico che ragiona un po' alla vecchia maniera, e quindi racconta solo favole politicamente scorrette che non rispettano l'ambiente. La mamma di Cappuccetto Rosso che fa le frittelle sulla pen, sulla padella e poi butta l'olio esausto dentro i gerani. Cioè lui si vanta di appartenere a quell'epoca che ha sbagliato la plastica, l'ha messo tutto quanto in maniera politicamente scorretta e oggi racconta queste favole secondo il suo punto di vista e i presentatori, che sono quattro giovani ragazzi molto dotati, molto bravi, dicono nonno ma che dici, ma che fai, insomma lo trattano un po' come un nonno che... Il che è che questo è un po' specchio della realtà. Sì, è la denuncia di una società. Una società che chiunque non c'ha tempo di imparare a differenziare l'immondizia è perché è stanco, perché non gli va, perché non si sente... Perché non ha particolarmente a cuore anche la questione ecologica che noi nuove generazioni... Dovreste usare come baluardo per il futuro. Allora, c'è una cosa che a me ha... tu devi sapere che a Copenaghen c'è il museo del Guinness World Record. Ah, come no. Io credo di esserci stato per... Ci sei stato per un po' di tempo. Per un anno e mezzo, due, non lo so quanto. C'è però una parte di carattere, lo sai? C'è una piccola fotografia, lì a Copenaghen da una parte dove racconta appunto quello che hai fatto nella fine degli anni 90. Bellissimo. Perché dato con il suo gruppo al Foritalico ha cantato la canzone più lunga del mondo dalla durata di 25 ore e qualche minuto. E un minuto. 25 ore e un minuto. Però poi siamo stati battuti da un gruppo che si chiama i Folca Bestia in un... 36 ore. 36 ore. E noi non abbiamo accettato... Raccontaci questa esperienza. 25 ore. Come si fa a cantare per 25 ore e un minuto? Ma con Elio Le Storie di Sera l'aveva fatto a 18 ore. Qualche anno prima. E noi abbiamo detto, ma nel 99, ma saremmo capaci di farlo... Con delle pause? No, no. Continuato? Sì, sì. C'era il regolamento del Guinness che prevedeva che tu potevi fare una pausa di 5 minuti ogni ora, oppure cumularle in un secondo momento. Noi questo dettaglio, visto che eravamo presi dalla cosa... Sparito. Siamo andati dritti... E la voce? Per, diciamo, due giorni poi non sono riuscito ad emettere. Cioè, mi chiamavano le persone al tefe e non riuscivo a parlare. Però, Guinness for Regal. Però c'è stato Guinness. Sono soddisfazioni. Dopo la canzone più lunga del mondo, però, diventi Mr. Whatsup. Mazza, anche sta cosa sai. Tra l'altro, ti rendi conto poi come si apre e si chiude questo cerchio? Si chiude, no? Però, come è ciclico tutto, da Whatsup, Whatsapp, lo spettacolo con Natteatro. Si chiama Mr. Chat, il personaggio che faceva. Però era il 2000, Mr. Chat, Whatsup, che richiama Whatsapp. Era il 2000, ma credo già si chiamasse forse Whatsapp. Whatsapp era il programma di Daniele Bossari su Italia 1, dove io ero inserito. Cioè, io ero ospite di Mr. Chat, che era un pupazzo, e io ero un uomo chiuso dentro una casa, nudo. E' assurdo, se pensi che poi Whatsapp non esisteva minimamente. E anche nell'immaginazione più lontana. Eh, vedi, insomma, essere sempre i primi antisignani delle cose. Tant'è vero che io entravo dentro, facevo questo Mr. Chat, era collegato con il web, che ancora era l'inizio, e la gente tramite le chat faceva delle scommesse con me. E io dovevo guadagnare con queste scommesse da mangiare, da bere, da dormire, il frigorifero. Quindi entravo nudo dentro una casa vuota, e dalla fine del mese, dopo tutta la giornata, dopo le scommesse, vincevo i tappeti, la brandina, il frigorifero, la lavastoviglie. Fa parte di un'altra televisione, eh. Era un format giapponese che venne acquistato dalla Fininvest e ci proposero. E mi scelsero a me come comico, perché magari riuscivo a tenere... Ma poi, insomma, io feci anche degli scherzi, perché a un certo punto ho smesso di fare le scommesse, ho occupato il... Ho fatto tipo una protesta, mi sono messo lì, ho incrociato. Non accettavo più le cose che mi portavano, le buttavo dalla finestra. Un po' anche The Truman Show. Sì, però questo era un Truman Show, diciamo, dello scolaro che occupa la scuola, che vuole... Che fa l'autogestione. Meno politica lì corretta. Per quanto il Truman Show non è che con politica lì corretta è così tanto d'accordo. Poi Zelig, ne parlavamo sempre nel fuori onda. Sì, ma Zelig io sono sempre andato come comico, diciamo, nel teatro. Poi lo scopo di Zelig è proprio quello di far crescere nuove leve. Quindi magari in questo momento c'è un ragazzo che sta provando, è giovane, e magari fra due o tre anni sarà il nuovo Checco Zalone o il nuovo Troisi, immagino... E me lo auguro, come è giusto che sia. Io ti stavo guardando negli occhi e ridevo, non ridevo per la risposta, ridevo per quello che c'era nell'edula delle tue spalle. Ma guardi, vuoi rimettere quell'immagine, per favore, che ha il cinesino in testa? Ah, insomma, con la chitarra, perché è una roba... Cioè, solo a guardarlo fa ridere. Dato, mi racconti un attimino che pezzo, che punto, poi con la camicia. Questo è un pezzo che è stato dichiarato politicamente scorretto, perché oggi fare il verso, anche parlare con la pronuncia cinese, è un modo per prenderla, insomma, è ritenuto una presa in giro. Però... Però è comicità. Però i comici, se gli togli la possibilità di fare satira anche di costume, di fare la maschera, di fare zeliche... Che fanno? È un errore storico, perché un comico non è che... Non potrebbe più esprimersi allora questo. Beh, insomma, noi le facciamo la satira, perché come se tu a un vignettista gli dici, guarda, non puoi disegnare più le donne, perché disegnare una donna... Fa soltanto dei maschi vestiti da donne. È una forma di censura. Io non la... Siccome non la ritengo congrua con il linguaggio del comico, che è sempre stato questo, e sarà e continuerà a essere questo, pensa se a qualcuno fosse andato, faccio un esempio molto alto, per proprio far capire l'importanza del conguaglio. Uno fosse andato a Dante Alighieri e dire, signora Alighieri, questi ghibellini all'inferno... Non vanno così bene. Tutti questi personaggi... Tutti questi ghibellini all'inferno sono politicamente scorretti. Non possiamo pubblicare il suo amatissimo... No, oggi non avremmo... Oggi non avremmo... Mondiale, non italiana. Non avremmo la Divina Commedia. La Divina Commedia. La Commedia, che poi divenne divina. Però pensa se qualcuno ti avesse detto... Io faccio un esempio un po' più spiccio, per pensare i cinepanettoni. Questa è una battaglia che faccio tutti ogni giorno, praticamente, le catecine panettoni. Ma perché adesso... Ragazzi, battute famosissime di Cristian De Sica, il tè delle piramidi, lo gradisco, vabbè, il tè delle piramidi non piace... Sarebbero comunque scorrette e non replicabili. Adesso col vino abruzzese è successo di tutto, non l'ultimo cinepanettoni. Non solo, ci sono state anche delle grandissime polemiche per quanto riguarda gli ultimi due comici che hanno fatto molto discutere, Pio e Amedeo. Sì. Che tipo di comicità è la loro Dado? Ma lo stesso, loro prendono in giro una figura di sgarbato, ignorante del Sud che si mostra in quella maniera. Quindi loro non sono così. Loro fanno vedere, danno un'amplificazione a uno stereotipo di uomo del Sud che fischia le donne, che parla... Quindi gonfiare questa cosa dovrebbe dire ah, guarda da chi non prende l'esempio. Cioè, guarda quanto sei discutibile, goffo e criticabile se ti comporti così. Quindi benvengano Pio e Amedeo. È come sempre lo stesso. Perché Dante ha messo i ghibellini all'inferno? Guarda che fine fanno chi si comporta in quella maniera. Ci deve essere sempre un messaggio, però, anche in uno spettacolo teatrale, in un film, in tutto quello che riguarda l'arte e la comicità. La commedia. Una morale anche, se così vogliamo. Ma la morale la lascerei un po' più ai preti, alla chiesa, la morale... Un insegnamento, magari, più che morale. Ma lo scopo finale è quello di divertire. Divertire e far ridere, far tornare le persone a casa con un sorriso è una delle imprese più difficili che esista. Tant'è vero che la risata per anni veniva scambiata come qualcosa di memfistofelica. Insomma, c'era qualcosa di demoniaco dietro una risata. Forse perché la risata veniva proprio immaginata da colui che fa... Ecco, quindi questa è la risata demoniaca. Ma noi ci abbiamo risate molto più di cuore. Insomma, le persone che vengono la sera al Teatro Tirso fino al 29 ci ringraziano perché dicono grazie di avermi fatto passare due ore e non ho pensato più a niente. E questa cosa è una... Insomma, è una condizione meravigliosa. Ma poi si rispira un'energia a teatro così, con questo genere di spettacoli che... Solo chi va a teatro lo può provare, quindi andate a teatro a Tirso. E noi vi ricordiamo di andare a teatro dall'11 al 29 gennaio, Teatro Tirso, De Molina, via Tirso 89, Roma, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, inizio ore 21, sabato 14, 21, doppio spettacolo 17 e 21. Giusto, Dato? E la domenica 17. E la domenica 17. Dato, io non ti chiederò... Alice, gatti, nananana... Però se mi vuoi fare questo regalo, poi andiamo in pubblicità... Era... Allora, il classico dice proprio... Ma lo dice pure di Andrè, ma lo dice pure di Gregorio. Alice guarda i gatti, e i gatti guardano le Alice. Nananana... Dato a tutto tondo, a teatro. Grazie davvero, Dato. Grazie di essere stato con noi. Noi andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo. Noi andiamo in pubblicità. Noi andiamo in pubblicità. Noi andiamo in pubblicità. Noi andiamo in pubblicità. Noi andiamo in pubblicità.